La misericordia, la giustizia e la pace, così come le migrazioni, la violenza e la criminalità. Il segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolina, ha messo a fuoco quelli che saranno i temi al centro del viaggio di Papa Francesco in Messico. Il porporato ha inoltre sottolineato la componente mariana del pellegrinaggio del Pontefice. Sappiamo tutti come la Madonna di Guadalupe è proprio al centro e nel cuore della storia e della vita dei messicani. Ecco, io stesso ho potuto constatare e lo constatavo sempre con una grande commozione del cuore e quanta venerazione, quanta fiducia, quanto abbandono c'è nella Vergine di Guadalupe, quella che i messicani chiamano la morenita del Tepeyac. Il motto di questo prossimo pellegrinaggio è Papa Francesco, missionario di misericordia e di pace. Come si incardina questo viaggio apostolico nell'anno che stiamo vivendo straordinario del Giubileo? Mi pare che la presenza del Papa in Messico voglia essere, come dire, un aiuto al Paese, alla Chiesa di quel Paese per riscoprire e vivere nella vita quotidiana l'aspetto della misericordia. Ecco, l'annuncio della misericordia e la testimonianza della misericordia. E mi pare importante appunto anche che il Papa si incontrerà con tante categorie di persone, ecco, per richiamare tutti proprio a questo impegno, a questo compromesso di tradurre la misericordia nella vita quotidiana, a partire dai politici, dai popoli indigeni, visiterà un carcere, visiterà un ospedale, si rivolgerà alle famiglie. Papa Francesco tende sempre le proprie braccia verso l'uomo, soprattutto quello in difficoltà. In Messico appunto incontrerà tante forme di disagio. Quali sono oggi le sfide per la Chiesa locale, gli orizzonti di missione? Senz'altro la sfida di denunciare il male che è presente, ecco, alzare la voce appunto contro tutti quei fenomeni negativi, a partire dalla corruzione, dal narcotraffico, dalla violenza, dalla criminalità, ecco, che impediscono al paese di procedere speditamente sulla via del progresso materiale e spirituale. E poi, ecco, di farsi buona samaritana, di farsi buona samaritana nei confronti di tante situazioni, di persone che soffrono e si trovano in necessità. Pensiamo, per esempio, al fenomeno delle migrazioni, no? E all'impatto che ha sulle famiglie, ecco, l'impatto disgregatore che ha sulle famiglie. La Chiesa sta facendo molto a questo livello e dovrà continuare a fare molto. E poi rimane sempre il compito principale della Chiesa, appunto, che è quella di educare le coscienze, ecco. Di educare le coscienze nel senso di rendere sensibili di fronte ai fenomeni negativi. Papa Francesco più volte, come abbiamo detto, si pronuncia contro drammi quali la migrazione forzata, piuttosto che il traffico di armi o di droga, anche in sedi internazionali di rilievo, come il discorso pronunciato alle Nazioni Unite, eppure tutti i giorni si scrivono pagine di dolore e di sofferenza. Il Papa ci dà anche proprio esempio in questo coraggio che lui ha di continuare, no? Ecco, di non cedere, di non arrendersi di fronte al male che pur continua a diffondersi e a far sentire, ecco, i suoi effetti nel mondo di oggi. Ecco, io vorrei sottolineare il fatto che il Papa, per utilizzare l'immagine che è già usato per la Chiesa, si china proprio come un buon samaritano su queste piaghe. Ecco, non è tanto una denuncia quanto un prendersi a cuore queste situazioni negative e invitare, ecco, le persone a lottare contro questi fenomeni e soprattutto a cambiare, a cambiare il cuore. Un segno sicuramente di grande speranza l'annuncio venerdì che è stato fatto di questa prima tappa che Papa Francesco farà a Cuba incontrando il Patriarca Kirill. Il fatto che il Papa e il Patriarca di tutte le Russie si incontrino è un grande segno di speranza, no? Un grande segno di speranza. È veramente un momento che, insomma, dà coraggio, che dà animo per continuare, cercare di costruire sempre più dei rapporti di intesa, di incontro, di dialogo, un po' questi temi sui quali il Papa insiste tanto.